ciao da marco ciao da claudio se sei un installatore e ci segui già da tempo su social facebook youtube instagram pinterest e quelli che sono conosci già le nostre due belle facce cosa è successo quest'anno quest'anno abbiamo deciso in maniera più importante rispetto agli altri anni perché abbiamo messo in piedi determinate cose di di estendere la rete gmc a livello italiano perché perché quante richieste sono arrivate nel 2019 parecchietante più di 200 sostanzialmente allora io claudio ci siamo guardati abbiamo detto o chiudiamo quello che è la pubblicità oppure facciamo qualcosa per riuscire ad aiutare più persone possibili che arrivano a noi a richiesta per far questo però puoi capire anche tu che non è fattibile fisicamente dovremmo avere dipendenti sparsi per metà italia e quindi cosa ci è venuto in mente di fare? ci è venuto in mente di cercare dei validi collaboratori poter gestire la zona le zone perché sempre di più ci chiedono qual è la vostra filiale più vicina qui a roma qui a salerno qui in puglia qui a torino qui a milano in giro per l'italia fammi pensare in questo momento dobbiamo dire solo qua verona il che sta diventando abbastanza restrittivo perché le richieste sono in stress sempre di più la gente ci segue ci vede gli piace come lavoriamo gli piace come cerchiamo di dare il miglior servizio e cosa succede che ci vogliono da loro ma noi due siamo più la struttura qua ma su verona non riusciamo a correre in giro per tutta italia ed è per questo che parlando con Marco abbiamo detto perché non facciamo una selezione iniziamo a trovare degli installatori validi come possono essere? allora di base il concetto cos'è se sei un installatore chiaramente premesso questo video è proprio solo per gli installatori poi se ci stai guardando e sei interessato ti spiego poi come funziona per mandarci la richiesta di base cos'è il discorso abbiamo bisogno stiamo cercando avendo messo in piedi un sistema un metodo proprio un metodo organizzazione a tutti gli effetti stiamo cercando delle persone motivate degli artigiani delle piccole aziende di due tre persone organizzate già per la loro struttura quindi con i materiali con tutto quello che serve noi forniamo quello che è il cliente la preventivazione il supporto e poi ti accompagniamo dal cliente in modo tale per una volta due volte ti supportiamo ma questo te lo spiego poi nel video dopo di base questo video qua vuole essere proprio un lanciare un messaggio perché perché chiaramente in questo momento storico se fai impianti sai cosa vuol dire condizionamento sai cosa vuol dire diventare matti per fare uno splittino burocrazia una cosa fuori di testa quando ci sono tantissime opportunità sempre nel settore che attualmente sono lasciate così a improvvisati lasciate a aziende che fanno tutto e fanno tutto male poco e male e quindi ci sono delle opportunità allora siamo qui appunto a dirti se hai voglia anche tu di entrare nel gruppo di gmc ci sono delle belle cose e importanti che possono essere buone per te innanzitutto per noi e per gli utenti che soprattutto per gli utenti a riuscire a soddisfare le molteplici richieste bene allora una cosa fondamentale se ti se sei interessato e vuoi sapere di più di cosa c'è dietro a questa piccola presentazione ti invito a inviarci una mail con una data la mail a assistenza chiocciola gmc impianti punto it ripeto assistenza chiocciola gmc impianti punto it ci indichi la tua ragione sociale partita iva codice fiscale indirizzo tutto nome che ognome numero di telefono a quello ti invieremo a quella mail che ci invierai ti invieremo un video dove ti andremo a spiegare più nel dettaglio di cosa stiamo parlando ok altre cose direi che ci siamo diciamo e questo messaggio è per tutto il territorio nazionale quindi sì tutto il territorio nazionale isole comprese quindi sicilia e sardegna per l'estero più avanti più avanti tanto vediamo di partire con calma però facendo le cose fatte bene cosa dici un saluto da claudio da marco e ci vediamo la prossima ciao